aggiungo un po di eccoci buonasera a tutti eccoci eccoci qua il trio delle belline riunite come ogni mercoledì non abbiamo ancora provato la mappa nuova ci sono tantissime novità adesso le scopriremo insieme le scopriremo solo vivendo esatto esatto abbiamo già preso il battle post eccolo qua nuove novità nuove novità perché non riesco a vedere la live io vedo la pubblicità quindi nessuno ha sentito quello che ha detto perfetto andiamo cosa stavo dicendo sono tantissime novità siamo quindi la mappa nuova mappa nuova caldera meno fratte su caldera esatto 50 per cento il meno è tantissimo è tantissimo è veramente tanto quindi tutto open io pensavo di andarmi un po a infrattare ci sono dei bunker hanno messo storage town ricordiamo e nuovi perk che si possono trovare per terra ciao spin tipo fantasma e altri tra cui uno nuovo che non mi ricordo più come si chiama e niente io direi di due armi nuove due armi nuove giusto una mitraglietta una smg che si sblocca col battle pass al 15 livello e una mitraglietta leggera che si sblocca facendo sette partite diverse con una mitraglietta leggera e un'ottica da ricognizione che è andata via la tua voce fra sì no non so che cazzo voglio dire l'ottica da ricognizione non lo so non lo so chi è che non riesce a vedere la live la francesca spin ma la sta vedendo adesso sì sì ma spin ma sei da solo ma no che belle che siano tutte nabbe a livello 1 ma invece queste armi che ti dà al battle pass all'inizio quali sono scusate la mia ignoranza questa che cosa ma è chiaro livello sia solare e le prime proprio la prima esatto impianto cile cibernetico cile cibernetico è un un bundle della nuova arma da sbloccare farà vai a vedere nelle tue nelle tue skin a me si dovresti avere una sorpresa mitraglietta giulet ottio ma vuoi dirti spin se sei solo amare e vale cosa fa come faccio a vedere cosa devo vedere e vai nelle vai nelle nelle skin degli operatori meglio negli operatori dovresti avere non più allora vediamo un po' e ma qui come faccio a vedere che che intanto che operatore è che almeno cerchi in mezzo a 90 si chiama maxis marco la mente con la metà d'italia io non vedo niente eccolo quello 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 che non faccio un signor spin buonasera perché non riusciva a vedere la live serve adesso la vedo ora la vedo ora la vedo ti meriti una birra con l'insalata l'ho bevuta prima la birra ma l'abbiamo insalata mangiata aspetta aspetta c'è una sorpresa in centrioli mai spavolori ma io non vedo niente attenzione 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 ma io la sorpresa non la vedo come faccio a vederla io non ho nessuna sorpresa e ma nemmeno io non la trovo è una fake sorpresa forse devo uscire dal gioco rientro vabbè io ve l'ho regalato ma quale è sta qua lo sono anime veramente c'è rimasto male devo riavviare il gioco probabilmente oppure ci metto un po vabbè la possiamo vedere più tardi vediamo dopo grazie in anticipo vale c'è rimasta male vale c'è rimasta male si start a 7 sei tu il leader non si sa perché ma sei tu doci porti 7 proviamo la mappa nuova dai ma c'è qualcuno che parla ci sono solo io no io ti ho parlato start a pronto vale è andata la birra gli ha fatto male cosa sta combinando mi sei scatarracata ti sei scatarracata starta vogliamo vedere sta mappa nuova su muoviti ci abbiamo fatto spin tu l'hai già provata ci puoi dire qualcosa di più niente non è pervenuto l'hai già provata la mappa nuova no in realtà ho appena acceso perfetto allora sorpresa per tutti allora so già che c'è un easter egg nella mappa ma sai qual è? bisogna risvegliare uno zombie dove c'è il cimitero bisogna accendere tre cannele ma non li stai perculando o? te lo giuro te lo giuro te lo giuro ma ogni volta che accendi una candela devi dire una preghiera? più o meno sì allora io non posso farlo no tu stasera stai molto bravo spin ma io non sono sempre hai ragione tranne quando mi ammazzano da dietro lì perdo un po' la blocca perdono le brocheggi vabbè è appena uscito l'aggiornamento sicuramente non troverà partite comunque c'è un'altra news a prescindere dalla nuova mappa si era detto che la nuova mappa sarebbe stata da 80 player in lobby non sto a 70, 80 e invece sempre 45 come Roberto e quindi ci sono tante zone morte però può essere che poi i prossimi giorni aumenteranno eh non lo sappiamo non credo beh tu che hai contatti con Activision eh io sì sono pagata da Activision 10 euro all'ora e quindi però mica male beh scorsa io faccio pubblicità male male vabbè giocheremo dopo domani immagino ti si è buggato? eh io sto cercando no 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 sto cercando cosa il ping è salito a 200? no è a 30 per ora troppa gente stasera mi sa vabbè però giocano tutti giocheremo anche noi cosa dici ma speriamo bisogna persistere allora vabbè intanto mi vado a leggere vediamo se riusciamo a trovare una cazzo di partita fortezza medievale bla 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 ah poi hanno messo su caldera questi ATM novi poi poi sì non ho ben capito come funzionano sto restando il boom il bello che come ping arriva partita con ping 30 e poi non va oltre però provo ad annullare rifare l'ho già fatto l'ho già fatto proviamo a cambiare host non cambierà niente però eh non credo secondo me provo a uscire no no aspetta aspetta ho già riavviato un attimo lo facciamo noi eh lo sappiamo di diverso da loro noi ah hanno messo anche qua le stazioni d'acquisto delle armi su caldera nuovo veicolo un SUV corazzato hanno messo le granate amp non so se avete sentito parlare ah l'amp quelle che disattivano veicoli per almeno 10 secondi devono essere forti queste secondo me ATM rotti ah palloni portattili ballon portattili bello ballon belli ballon queste ho tanta roba secondo me su caldera allora raga ho una teoria secondo me il quartetti su fortune skip ritorno è bagata ma no fra dai prova a uscire esci un po' cambiamo host proviamo risponde al telefono a parte e però esci intanto seven perché è uscita let's boo andiamo noi da let's vale prova a startare te appena ci siamo tutti ok manca spin dovete invitarlo perché non credo di avere tre amici ecco ecco prova a startare te atto intanto continuo a leggere un po' di di news hanno risolto il problema dell'animazione della maschera quando si apre il paracadute ok hanno tolto i passi dal gulag dei player che stanno sopra che bello la roba vabbè le nuove armi l'abbiamo detto che sembrano già essere rotte quello che ho visto e poi c'è un elenco infinito di aggiustamenti delle armi e spin per la tua gioia dovrebbero aver baffato la carabina cooper armaguerra deve essere ancora più forte madonna mia anche la nikita e la arma guerra quindi cosa è successo in che senso cosa hanno baffato buonanotte buonanotte a tutti si ho trovato la partita dovrebbero aver baffato arma guerra carabina cooper nikita forse invece è stata nerfata la nz eccali si è normale troppo forte c'è un po' più di rincuro a me non ho trovato un bel niente però madonna no no siamo in lobby ma come siete in lobby raga non state scherzando anche tu ma io sono nella scremata home si si però dice a me da 4 su 40 no raga allora io sono nella home con gioca armi battle pass io non vedo niente si anche noi siamo qua vale a me invece da 4 su 40 in attesa in attesa della lobby anche a me esatto anche a me come l'alex pensavo che fosse già in gioco diciamo giochiamo a starabanda sennò torniamo ad andare un attimo su caldera se qua non funziona ci torniamo dopo ah non ce la fa ma l'ho poverato barial saranno tutti lì vediamo queste fratte mi incazzo se ci sono troppe fratte ancora no 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 ho già visto fra ho già visto hai già visto cioè non ho giocato io ma ho visto delle partite è praticamente una terra desolata è depilata esatto e non c'è neanche più l'acqua hanno tolto i fili i laghetti bellissima vero l'acqua non c'è più addirittura perché è così difficile giocare c'è troppa gente esplodono i server vediamo se gli altri stanno giocando perché allora no Moonred non trova le partite Savi Savi sta parlando sta parlando della patch non trova si perché anche lui probabilmente non trova le partite Barry è con Moon non trova le partite anche lui vabbè mi fa piacere che non siamo le uniche sfigate no raga sono tutti nessuno sta giocando vabbè guardate il posto è arrivato no Pibo Pibo l'ha trovata matchmaking no scherzavo vai si 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 l'ha trovata la lobby si riempie Pibo l'ha trovata su Kip anche gli A ma tanto sistema madonna io vorrei vedere la sala server di mamma mia ahhh sono entrati vabbè dai allora aspettiamoci vorrà un po' ora ci ritroviamo nella stessa knob si si adesso ci ritroviamo noi siamo noi siamo su Caldera Caldaia Caldaia si Caldaia stebeline due giorni che non giocavo avevo una voglia e poi non va mamma mia si poi oggi mi scrive fra vieni giochiamo facciamo brighiamo arriviamo e non sono stanca guarda ho staccato ma io tanto dovevi fare l'aggiornamento lo sapevo era tutta pressione psicologica esatto oggi sono andata all'acquario pieno come è andato? ci è piaciuto? molto carino mi ha detto i pesciolini abbiamo visto un sacco di pesciolini di squai medusi i pinguini bello 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 sempre bello sempre più bello poi c'era bello fresco dentro gente tanta eh si perché al mercoledì essendoci gli sconti per chi è residente a Genova c'era una bella coda si quanto hai speso quindi? 10 euro invece che 30 però per cento io continuo a dire che se loro entrono a giocano noi no ma come va? boh ma tutti sono entrati? stanno giocando in quattro sulla nuova mappa manco cioè quartetti quindi secondo me vale devi provare a uscire e rientrare più volte da cosa? dal gioco? no no dalla lobby se è buggata non è utile che stai secondo me ok arrivo guarda cos'è questo odore? stai facendo i pop corn? mi sento dall'altra stanza non so se ti rendi conto no vale ma la mia dieta? è andata a pute a pute dai mi vuole tutta ciccia e brufoli e si rientra esco dentro riprova fortunski perché stavo bevendo il mirto sardo il mirto sardo aioh no ma gli altri stanno giocando gioco di merda gioco di merda ma quando lo dico io no eh no no gioco di merda facciamo un po' di smr col gioco di merda se non riescono a gestire un po' più di giocatori rispetto al solito dai ogni volta no però quando è uscita Caldera siamo siamo riuscite a giocare minchia alla prima l'abbiamo vinta subito che bello prima partita prima win poi basta l'ultima win che ho fatto su Caldera scherzo prima e ultima esatto allora Muret sta giocando quest'altro non sta giocando FIFA chi sta giocando Sabino Sabino non trova un cazzo però lui il ping li va oltre tutti si lamentano sulla sua chat che non non trovano le partite guarda guarda se ti accompassa la skin che ti ho regalato no ma dove 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 come si chiama anche una mail dovrebbe essergli arrivata un'email come si chiama tipo Maxis Maxis non ce l'ho è gnocca è gnocca ha gli occhi viola io Maxis no ah porca mi sono morso il labbro che dolore cambiamo host andiamo andiamo da spin dai proviamo proviamole tutte esci proviamole tutte mi fido di spin che c'è il server torinesi a faccio io va bene fai tu sono tutti mi ha cavale vale entri no non ho ricevuto il mail nemmeno io ma non puoi regalarmela è da playstation a pc ora che mi viene in mente perché abbiamo l'account anche playstation quindi dobbiamo entrare secondo me dalla play fidati per prenderlo vale entra vale non riuscivo a entrare sì due ore che c'è per casa beh allora rintitoliamo la live come asmr pop corn fra hai visto più anche nobi devo vedere le ultime puntate spoiler ah cazzo mi avevo finito eh no io ancora no non posso dire perché ci si è messo si è messo per vedere un'altra un'altra serie a mare fuori ah com'è non male non male invece ho visto una cretinata sulle vampire due vampire licea no una vampire liceale una cacciatrice di mostri una cretinata alginale trash a livello di pretty the liar madonna però sai stanno insieme quindi bisogna vedere ma sei giusto ma cosa sta succedendo ragazzi ma emilia riesce a giocare sì sto giocando come fai a saperlo se clicchi sul suo nome ah guarda vedete sul suo nome ah e invece no è una lobby prepartita proprio quindi questo batter questo questa live si chiamerà popcorn e quattro chiacchiere si devi cambiare la no la categoria marty sei tu lost sì no è spin no io ah sei tu no no e poi io ho già annullato e vediamo sto guardando che anche Savi non riesce a giocare da mare le armi che vengono sbloccate c'è un botto di gente che sta giocando comunque e beh per forza se no sì e canarina bello canarino non va non è inquietante non so se abbandonare o aspettare io riavvio riavvierei il gioco proprio il gioco prova di avviare riavviiamo su vai ma a me sì a dopo ciao ho paura che non ci faccia più rientrare ma va ma figurati proviamo ciao ciao Grazie a tutti. 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 Riproviamo. Wow. L'ultima domanda da un milione di dollari. Come un colano sonoro. No. No, era la musica del milionario. Ignorante. E scusate l'uovo film di Buzz Lightyear l'avete già visto? No. Mi hanno detto che è molto carino che è per adulti, non è per bambini. L'ha visto già? Voglio andare a vederlo. Che è pieno di riferimenti, di cose. È per bambini molto cresciuti. Quindi va bene per noi. Quindi va bene per noi. No. Noi non riusciamo ad entrare. Io ho visto Valerio. Io stavo giocando prima. Non so in quanti sono. Magari era da sola e più facile. Io non lo vedo online. Ora. Valerio? L'ho visto prima, ora non c'è più. Ah. Adesso si vedete che è uscito. Mua. Quanto è mezz'ora che siamo su? No, quando... Eh, un po', sì. Un quarto d'ora. 40 minuti. Vabbè, passate. Se andasse anche solo che caldera o tanta roba? Sì, sì. Vabbè. Andasse a fare qualcosa. Tanto prima o poi si sblocca. Bisogna appazientare. E mangiare pop corn. No, mi devi intrattenere. Mangiando pop corn. Mm. Oh. Stranger's pink l'avete visto tutti? Stavo guardando che... Stavo guardando che... No, no. No, io no. Ma tu non l'avete visto? Ma stilezzo? No. Mai visto. Ah, ok. Tu, spin? Che cosa? Stranger Things Stranger Things No Tanni se lo sta guardando È bello Ultima stagione da regarsi addosso Devo paura Cioè paura È dato schifo Tutte quelle robe che si rompono Invece è uscito oggi Umbrella Academy Un'altra cosa che seguo solo io? Mi sa di sì Non la conosco Vabbè io ci ho provato a risollevare la conversazione Cioè fate voi Fate qualcosa Mi infilgete Non si parla con la buca pina Per questo non parlo Ma io non la buca pina Ma certo Avete amali? Non so Alex C'hai un cane Alex Hai delle bestie Bestie? Ho un gatto Un acquario No Bene Gatto di nome? Minu Acquario Minu? No Minu come il nostro amico Ah Minu Capito Minu Minu come uno dei tre gatti di... Perché è abbandonato? Stai per abbandonato Non gli piaceva il nome Minu E' uno dei tre gatti degli aristogatti Degli aristogatti? Ma femminuccio Ma è bianca? Infatti lei è femminuccio No Spinesci perché sennò Saria non può entrare Eh pazienza Quando imparerà a bere la birra mangiando l'insalata Entrerà Entrate da me dice Entriamo da lei proviamoci Stiamo provando tutte Eccomi Parve Ti eri rotta? Fra? Sì Ma perché mi dice già in attesa della lobby? Perché io sono avanti Oh oh 4 su 120 È la prima volta che vedo questa schermata Eh ma anche prima è uscita da parte No no Metti l'emozione da parte Cos'è? Ma raga Dove sono tutti gli altri 116? Non sono come noi disperati Aspetta che vado a mettermi il filamino Buonanotte a tutti A me aveva fermata da BR Quartetti Eh pensa Ecco io invece vedo 4 su 120 Anch'io 4 su 120 Ah io vedo BR Quartetti Quindi non va bene Se è buggato Esatto Dovremmo vedere tutti e quattro La stessa schermata no? Come minimo Eh non lo so Non lo so Ti serve Raga Raga Savi è riuscito Savi è riuscito a entrare Va Eh adesso vedo anch'io 4 su 120 Ah no Ah dai Niente Vabbè Savi è entrato Maledetto Interzetti Savi Ah ecco Eh ma non c'è più la logica Tanto voi tre siete su da pc giusto? No Eh no Ah no? Moon sta giocando di nuovo in quartetti Dai come è possibile? Venduti Venduti Jack sta giocando dopo 5 minuti è entrato Ma lei si è stronza Aspetta che si sta muovendo qualcosa nella mia ricerca della partita Che è? Cosa si muove? Ha aumentato il ping aspetta un po' Si sei messo il pigiamino? Eh sì perché stavo sudando nella gergissina mi dava fastidio Ma è la prima cosa che si fa Si arriva a casa ce lo si leva Eh no perché dovevo andare a prenderne Chiara Ma poi Chiara mi ha detto venga a casa da sola Io ho il pigiamino Ecco all'anno Aspetta che ha aumentato il ping di range Magari è di buono spiccio A 50 Vabbè Magari è di buono 66 Forse si muove qualcosa E' perché 40 minuti che Dai attivisio ti diamo un sacco di soldi a 3 anni Almeno faccio durare cacchio dai Non ho fatto Ho appena preso due skin Cioè vergognati Vergognati Vergogna Vergogna No eh Oh cosa io non vedo niente Come no? Non ti hai Non hai sentito il suono? Lo stai trovando Oh inizio Grandi Una partita Mi voleva leccare le mani Che sono di popcorn Sì Comunque spin Eh una partita me la faccio con voi Ragazzi ragazzi storage 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 Oh che emozione E' uguale storage E' sto male E' lei E' lei Eh no però non mi sparare cazzo Fammi vedere storage Spin della merda E' oh wow Dato sto c'è Eh Fatemi Eh vanita come z'ora Dopo mezz'ora in attesa Ci sta Yul vai via Quanto ci scommetti Che non so tutti quanti scenderanno a storage Beh anche noi No almeno Beh cioè vuoi proprio andare al v-lab Eh infatti Ma non lo so Eh va bene Finalmente giochiamo Sì tutti i tryardonest Stasera Ah è normale Livello 1000 Sì ma è meglio Livello 1000 C'è Dove andiamo? A storage no? Ah a storage No 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 scherzo Facciamolo durare un pochino di più Andiamo alla cosa di Pablo Ok C'è anche il sciacallino Ti stai parlando a Pablo Andiamo allo sciacallo allora Mi va la bandierina E quindi c'è meno vegetazione Ah sì Sì beh ci sono già meno angeli C'è quindi con la nuova C'è quindi con la nuova faccia Non è molto più imparata Rasa al tratino Non c'è l'acqua Non c'è l'acqua C'è uno c'è uno Da sopra Da sopra Da stesso Straccato One shot Merda è scappato Una mina Pro 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 Dietro 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 mi pusho Eh ho capito Non ho armi Raga aiuto A terra A terra Mi fai un'arma Qui c'è un'arma Eh io no Ah io sì Hanno aperto le porte Uh è il piano di sopra raga Sto salendo Occhio Fatto No ma no Non è il piano di sopra Ma che Eh È qua Piano di sopra Spin Fatto Tacci Miseria Bravi Mi serve una manina Grazie ragazzi Oh abbiamo preso anche il Non ci chiamo eh Ho preso io Oh ho trovato il kit Raga la mitraletta nuova forte L'ho già vista Ah la prendo Aspetta Marco Eh ha preso la wild game io Porca ma no Eh Oh gente Gente davanti Uno qui Ah lasciali passare Lasciali passare Andiamo a Eh per forza Sono senza piastre Non posso fai dare Eh no 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 Un cazzo Ok sono andati a sinistra Non ci hanno visto eh Non ci hanno visto eh Aspetta Ah vale 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 La chiave per il bunker Apri 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 È il bunker che c'è È il bunker che c'è Eh può essere Eh può essere Sì Oh Shanks Grazie Shanks Come quello di One Piece Shanks Dov'è il bunker raga Wait Shanks Audio No ma no Aspetta Aspetta che sono con Vale io Sì sono qui dentro Però Vai libero Ho sentito Ho le elucinazioni Può essere Anch'io ho trovato la tessera dorata Raga Che cazzo è la tessera dorata Ok Dove si esce qua madonna santissima Se non sbaglio il bunker è là eh Andiamo un attimo a vedere Sì al ping viola c'è gente Ah Però sopra verso la collina C'hanno Sono scesi tipo trello d'auto Prima Eh Sì si sparano Vogliamo prendere la boncina Ecco gli li ho visti Li ho visti Li ho visti sono là in su Ma che è così Sì è così di gentile Da lasciarmi delle piastre Io Tipo un certo Io Che ne ha sette Tieni Raga c'è gente da me C'è gente qua Occhio 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 Sono sulla collina Sono sulla collina No 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 Li ho sentiti sotto anche Fido Ecco Eccolo Raga Vincalo È qua Ma avete accerato? Una terra In mezzo alla strada erano Porca lo Porca lo Una fatto No ma ha stunnato È qui dietro No è dall'altro lato Dal pallone Eh sì Si guadagna un regno È morto No c'è un altro Sul tetto Bombardamento Via 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 È one shot Quello che ci ha lanciato Il bombardamento Ecco Porco È one shot Raga È sulla collina Sono dentro Un attimo Ci pushano Ci pushano Spin Se l'ho peggato Mi riesco a sparare un colpo Perché non c'è l'ho Audio Eh ma vaffanculo Pinviola 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 Sono dentro anch'io Marti Ti hai bisogno Vado via Sto scappando Ampushato Potevi provare ad andare a Loddy forse Odio? Eh C'era gente Ah Potevi provare ad andare a Loddy forse Annullare Sì 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 L'ho peggato Rientrerà In bagno Loddy forse Non è pushata Marti? Non lo so c'era gente là eh Ah li li... aspetta che li vedo Non è qua 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 Uno caro Mi avvicino un po' E' in alto quella terra sulla strada Eccolo Quindi deve morire prima o poi Ricarica ricarica Ma porca miseria E' stata scoperta una bomba nebula 5 E' attenti Qua Fran Non ho fatto il Loddy No no fumogeno Fumogeno pink viola Si sparano Fran? Te? Ma da dove li vedo? Da dietro Ah qua 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 Non ho fatto Ma questo è terra Ma questo è terra E' lui era il tuo No non poteva essere il mio Ah no vabbè ci non hai chiuso di niente scherzato No ti fa la bomba da destra poi A terra? Non li vedo io Dal pink rosso dietro l'albero Non c'è più colpi C'è un full team qua sopra Morto? C'ho un full team qua sopra raga Allora io voglio andare a restare Prendo il camion Ecco il nostro mezzo Vado qua? Prendi tutto e scappa Fran Forse ti conviene prendere il pallone e venire da me E' serio? Un momento Mi hanno pusciato sopra Vai col pallone Minchia senza coraggio Minchia Matrix Ma hai visto? Non luce qui da me Ari sono arrivata io eh Veniamo da voi? Sì Devo comprarmi delle piastre raga Ci pusceranno quelli dietro con il pallone probabilmente Non riusciamo a trovare a 100 così ci facciamo all'out Sì infatti Oh cazzo mi ha incriaccato Dalle case Da dove? Da dove? Da qua Lo devo dire dalle case Più o meno con la direzione più in viola Sì ti guarda Raga prendiamo il camion e andiamo via Raga Raga potremmo anche farceli questi eh Ma stesso senza armi Senza un cazzo Ah è vero Dove vado? Dove vado? C'è quella gioca eh per carità però Io sarei andata all'oddy Eh Eh Lootiamo qua magari c'è qualcosa Ma si scende ok Dai che hanno loot Dai 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 ce li abbiamo raga andiamo qua andiamo qua che c'è lo shop dove qua di fronte ok andiamo subito occhia però passami notte da dentro dentro camperati dentro una terra dove sono nata che spiega o spiegano ho chiuso la fronte che cazzo non l'hai visto non li ho visti non li ho sentiti niente tutte le armi scariche che cazzo mi faceva anche questo son morta perché vuole armi scariche cazzo no il bombardamento era il mio raga ma questi erano camperati lì erano camperati lì dentro ecco che compatti preparati nooo starma mi ha sciolta da tra mezz'ora facciamo un'altra partita vediamo se riusciamo a trovarla vado a prendere un po' d'acqua un po' d'acqua un po' d'acqua Cioè nel senso fare la ricerca della partita normalmente Eh ma infatti l'ho fatta così Perché se fai Gioca di nuovo normalmente prima si buggava Ti buttava fuori dovevi riammiare il gioco Solo che adesso è un po' un momento eccezionale Quindi boh Non saperemmo io Non saperemmo, non saperemmo, non saperemmo E' partita Che velocità Sento etichettare Etichettio Usate questo tempo per allenarvi Sì raga dai Molti meno alberi Subito manco il countdown Benissimo che lusso Cioè ma stai parlando con la Queen Host Cioè Grande sera Queen Host Allora Allora Ma Qua? Questa zona qua? Dove andiamo di solito? Spin? Vai vai Allora Numa numa ye 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 Numa ye Voi ye Bing viola Sì Bing viola Bing viola no no spi e stavolendo finno non ho craccato tutto tutto che lo vabbè c'è un team c'è un team c'è un ragione eruzione io non l'avevo mai aiuto è normale ma dov'è non ho dietro ecco la traccia di gente se ci andiamo più lontano raga io sono quindi me ne vado qui c'è uno scendo qua io mangia le armi raga tutti insieme io dove sono secondo te eccolo lì una una carcata fa da me è carcata sto cercando un'arma mi push hanno adesso porca miseria che cavolo ma vale tu eri in volo no sto scappando no scappavole ma perchè mi tirano i sassi a me ale ale dammi una mano prima mi tiri i sassi poi vuoi una mano aspetta un po che non lo vedo su 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 è tutto la tua destra audio grazie prego audio vado all'oddy che è l'oddy audio 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 0 rv sino non abbiamo parlato bassa voce ormai potete parlare sono morti raga è lì sopra uno craccato mi avvicino ma da dove troppo forte grande audio ma visto merda niente in cinquanta sopravvive tornerà in battaglia esagerato proviamo fortuns dai proviamo a me caldera proprio mi sta sul cacchio tantissimo a 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 mamma mia ci siamo dai esteticamente è proprio bella oh finalmente sono morta no no fammi vedere è insuccio tv fammi vedere la morta dai i colori sono bellissimi ma perché ho il cecchino in mano oddio che è il shot che ho fatto ma fammi giocare ma che armi di merda hai ma che cazzo ne so no ma bellissimo ci sono i vicoli qui siamo alle 5 terre ragazzi si veramente Luca c'è Luca, Bruno dito Bruno non si nomina Bruno che emozione dove andiamo? allora contando che è una mappa secondo me molto caotica quindi occhio allora i casetti piccoli pieni di roba cioè occhio si spunta gente ah qua c'è ma guarda io solo per il nome andrei qua dai solo per il nome dove? ma spin spin con cosa si mangia il vino? con i pomodori con l'insalata scendiamo vicino però è qua io sono in chiesa c'è uno dai però italiani tutti traiardone chi è con me? io oh via ci sono tre che fanno sono tipo tre caprette vanno tutti uno con l'altro che belli i soldi avete visto? sono l'ingotti si sono in tre con la stessa skin occhio dalla chiesa qua? ecco l'ho sceso ok sono in tre vanno caprette negozio al mercato quando cazzo sono? qua sopra di noi spin non è fatto è vero è giocato la scala ma giant cuccio un altro sotto un altro sotto 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 un altro in volo è alterato uno no è proprio bravo spin no è da dietro da dietro raga tenete mi ha scelto a piastre audio raga raga è stata la chiesa craccatissimo io che ho potuto al mio mt40 no sono in due matti ci stanno mirando no forca crota sto andando sto fuggendo io sono sei solo conoscessi il posto raga raga eh arrivo sto arrestando fin vuoi piastre sì grazie aiuto 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 è il momento ma porca che città che città che città ho fatto quante 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 sono uno l'ho fatto fin da dietro da dietro da dietro marty occhio mi sono in una mano è nella chiesa dove sono se piastrà grazie te l'ho mollata davanti grazie grazie lancio cassa piastre mannaggia ah no sei tu stavente spaventi ma ragazzi ci sono arrivano di nuovo questi sono i tryardone cittadiani occhio sì sono bravi come si sale qua sopra marty scusa la scala c'è la corda c'è la scala marca merda mi stanno sparando vado con 7 no cacchio sono che cazzo è non lo so boh non chiudiamoci sotto qua 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 craccatissimo raga vai 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 let's ma porca troia cosa mia c'è la mia cazzo è una piaccia con un colpo oh ma che arma ah non conosco le armi non conosco il gioco non conosco la mappa eh nemmeno io avete paura ah oddio c'è il vino raga sii andiamo a bere un po' di lambrusco qua c'è questo raga dove cazzo è finito quello lì mi hanno avvistato mi seguono c'è un cartello costituito exit c'è un tunnel raga ho gente qua io io sto scappando sto scappando c'è gente audio ma io sto provando ad andare a loadout no merda è qua è qua merda dai ma mi ha finito sto grandissimo con la bomba con la bomba lancio uno shop raga se riuscissimo ma ci abbiamo lo d'auto vada la d'auto oh chi è che mi ha avvistato cazzo raga raga aiuto no un colpo un colpo un colpo ma sono due sono due sono due sono tre ricotto sono bravi questi spin 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 dai ma sei restato ma come fa ad avere il rest vabbè me ne vado c'è il mondo c'è uno qua c'è uno qua andate via andate via andate via raga voglio lo d'auto imprendibile questa roba si c'è sempre team su un loadout boh io sto andando qua mi sparano ovviamente è già autata quindi scendo giù e vado a prendere uno sciacallo dai ma ho appena preso le armi cacchio vado io sullo sciacallo qua hanno loot attivalo attivalo prossima destinazione parano eh dai ma fatti di furgoncino dove c'è l'elicottero raga che sta volando lì c'è un sappo di gente niente oh ma un'arma che si è a fermo fraccato a terra morto che cazzo è lì qua raga abbiamo il load c'è il carrello qua si si facciamo arrivo vi ho lasciato i soldi che cazzo è l'usage che cazzo è l'uofe spingi spingi servono i tuoi soldi mi sparano mi spingi mi sparano mi spingi mi spingi mi spingi mi spingi Vabbè Ho preso un lot di qua No ma che minchia di class ho preso Ma te la mia Ma te la mia Vabbè Oh davanti a me Entra 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 dal lot di Braccato uno One shot un altro Ma raga sono bot Ma come sono bot E' vero sono bot Ai mercenari Ma no raga ma vaffanculo dai Oh quello non è tanto bot No no sopra non sono bot E' col cacchio Eh no qua da me è vero E' da Marti C'è gente c'è gente Eh non li vedo però E' Marti lo so è due ore che ci sparo Eccolo C'è un altro Marti Un altro un altro un altro Sove Ho dato fuoco a uno Dentro le dentro Ho preso fuoco a uno L'ho dato fuoco E' qui è qui E' qui da quante parte Mi ha fatto E' sopra Dove? Sopra Credo Ma da dove sono arrivato da sopra Raga piastre Scendono 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 di nuovo sopra raga Sopra Sopra il muretto Sono entrati sono entrati Ma vaffanculo no Non l'avevo vista Craccato Sono un po' sentrato Invece erano in due Occhio No Sono morta Spin Eh ho visto Vai Seven Fuggi No Che cazzo è questo? Non hai colpi Ma c'è rimasto senza colpi Cazzo Vabbè vado giù a prender l'altro Lo d'auto Dai ma avevo dieci colpi Ma che sfiga Brava Marti Audio Come ritorno disattivo Vedi già Eh eh Quanto a sei? Ragazzo al mondo Raga deve interessarmi Però No no Ritorno 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 Raga non ci capisco niente Eh arrivo 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 Dove però? Ah quello là Mi sparano Mi sparano Mi sparano Mi sparano Mi spino Mi spino Mi spino all'altezza Eh aspetta Voglio fare sto sciacallo Dai ma c'è uno qua Ma va fassculo va Ma come c'è uno qua C'è uno qua Ma come c'è uno qua? Ciao Eh c'è sta trabo c'è Ma bene ma Audio C'è un team Dallo shop Io sono safe dal loadout Sei safe? Non più No non più C'è uno che prende l'odi davanti a me C'è uno qui da noi Spin Sopra Sopra Scracato Scracato spin Tropingato Eh ma io non ci so Io sono sette Ah minchia ti vedevo a fianco a me Che stavo così Invece no Vabbè Quanto costa restare che restano tutti a babbo? 3.000 costa restare Eccolo Sare sulla botte Sare sulla botte Sì Sì E andati Nooo Eh Aveva una piastra anche di te Sì Maledetto Bravi Bella però Mi è piaciuta A voi? Dobbiamo conoscere un po' la nuova mappa Eh sì Eh già Però esteticamente è molto bella Lumidossa Incolorata Ema 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 No raga l'avete vista la mia ultima storia? Non farla vedere più breve Stavo mai Ah quella della foca? Sì ma hai sentito cosa ho detto io? Sì Sì Un po' stroppa Ma poi sdraiata a letto Manco dopo pranzo Dopo eh Sdraiata a letto così Qual è la tua storia? Troncetta Cosa dici? 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 Fatti due Ottimo, un attimo, fatti due Da dietro E va, fanculo! E stai avendo, anche davanti a te Eh, sono one shot io, ma... C'è one shot, sono senza piazza Raga, da me, c'ho gente, ho bisogno di una mano Ah, anche dalla casetta, verso il gas Braccato A terra Non so cosa fare Scendi qua, dal moddi Ci sto provando, ma ne vado a cattaro, muore C'è un cecchino che continua a spaccare, a rompere il coglione Dov'ha? I cocomeri, i cocomeri Raga, devo prendermelo da auto, perché sono morto Raga, dove va il cecco? Eh, lo sentivo sparare Lo sentivo sparare Dalla... Verso la chiesa, comunque Dobbiamo andare in sezzo Ma qua c'è uno Macchina! No, eccolo, cecchino, cecchino, cecchino Eh, va fa' culo È in cima alla torre Ma che cazzo è? Cazzo di camper Ma questo che cazzo è? E niente Raga, gli sto ruotando Sto andando avanti Raga, ma da una torre è lontanissima Ok, ho buttato giù uno dalla torre, ma non era il cecchino Mi ha fatto il cecchino Porca troia Ma... Cioè, ne hanno fatto da... Basta... Da questa torre è qua Occhio Quindi? Raga, dovete sparare al cecchino perché mi fa Ma no, dai Sulla torre Proprio in cima Per armi Pin verde, in cima Anche da pin viola c'è un cecchino, eh Niente, mi sto facendo Da pin verde? Sì Ma porca puttana Corretto, corretto, corretto Ma va Guarda quei camper del cazzo che sono sempre lassù in cima da due ore Let's Non salva ma non so dove sono perché c'ho la mappa Vieni da spinner, raduniamoci Io sono dentro la chiesa A terra Il bastardo Del pin verde Brava Guarda se hai un bombardo, qualcuno, qualcosa Anche perché mi sa che sono E' qua, uno è qua L'ho fatto Ok, arrivo L'ho fatto Brava Gigi Brava, brava Non vedo nessun altro Raga, venga a prendermi delle armi, arrivo Ma queste robe si può salire Sulle grondaglie fioreali Con scale sono Ma vado alla Firenze Raga, prendetevi l'autoress qua che ho preso Lancio l'uovia Dov'è? Ma c'è un carrello? Sì, perché ho fatto il contratto Anche perché ho fatto il contratto Ok, va via e andiamo Io non posso prendere l'autoress Come no? Cioè, ci sono gli sconti Cioè, ci sono gli sconti Mi sono presa le corazze Ma gli sconti erano i miei del contratto Era gratis Eh, ho capito, basta No, non era gratis A me non lo dava gratis No, l'autoress ti costa 800 adesso Ah, scusate Io, raga, sto passando tutto a sinistra e in alto dalle mura Se vi interessa Anche io, noi siamo compiuti Siamo sotto, però Però devo cercare delle armi Perché non ho munizioni Maschera Ah, cassa di muni Trovata Arrivo, arrivo Raga, che bella è sta zona Ah, molto bello Andiamo, andiamo avanti Che qua secondo me c'è chi Io non so dove siete Ah, ok Eh Se non ci vede perché siamo vicini Io non vedo nessuno Sono tutti sotto di me Qui, spin, pin blu Due, pin... A terra uno, dal pin blu Questa che è qua Ne ho chiuso come sul tetto, raga Qui sotto Ho sparato a un cadavere No, 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 no Pin blu, pin blu, due Ho fatto uno No, 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 cazzo È sceso uno sopra di noi Sopra di me E ce l'ho io E ce l'ho io Sulla torre Passo di qua, passo di qua Sì, sì No, poi è chiuso qua Quindi Ma questo è il pezzo più alto? Può essere? No, no, lui è sceso più... No, son... No, raga Allora, è sceso da me Io ho sparato dove essersi buttato Ah, no, ancora qua Ecco, vieni spinto Madonna, ma questa zona qua è fantastica Mamma mia, top Ma questo è fantastica Ah, riguardo C'è una localizzante, vi può servire? Raga, ma li pingate Ce ne... ah... Uno qua dentro Mi vedessi Però Qui anche Qua dietro, dalle rocce È la taglia Eh, mi dovete coprire, però Cacchia Roma Stai arrivando uno a testa L'ho fatto, l'ho fatto Sono safe, sono safe Hanno restato No, no, uno dietro Dai Ho due Mi stava facendo, eh, questo Dai, prenditi sta ciambrecola in faccia Raga, mi sa che arrivano altri, dove sono io È qua sotto Eccolo Dove ricaricare Tim intero Sotto di noi Alla taglia, raga, la taglia Scraccatissimo Spin Eh, ma... Se sono sotto sotto Raga, c'è uno qui dentro Oh, no, sì, tu Pazzarola Perchè Perchè sono sceso? Sono un babbeo Comunque raga E sali, sali dalle grondaie Chiude da noi, ragazzi Io vi consiglio State lì, state lì, state lì State lì, state lì Chi è di lecce? Chi è di lecce? Siamo a restare... Sare Poi Ah, l'ho restato di nuovo Dal pin blu 4, 4, 3 È qua Vedo il bersaglio Oddio Raga, uno in volo Dieto di noi È entrato nel castello È sotto di noi Raga, mi hanno lanciato una granata emp C'è un cecchino? Cecchino Sì Raga, abbiamo uno sotto È qua Sotto Due, altri due, altri due Mi hanno stordito Sotto di me Esattamente sotto di me in strada Vabbè raga, noi abbiamo i tetti Siamo calmi Che tanto Attacco a grappolo Raga, è qua Uno è qua Eccolo, raga, qua sotto Bene Non c'ho più piastre Non c'ho più piastre Eh, vieni qua da me Aspetta Ultime due Qui c'è una qua Brava Tre contro uno Marti, vieni Tre contro uno, raga È sotto di noi Abbiamo Abbiamo sempre il tetto Abbiamo sempre il tetto È sotto di noi Marti, viene per i tre palazzi Sto arrivando Sto arrivando Calma Calma raga È una balla partita per voi questa Dove essere qui sotto È sceso Secondo me è ancora più sotto questo Eh, può essere in strada Che non vado a restare No No Raga, no Mi sono rotta le gambe Porca troia Lazio, sopravvivi Io mi lascio No No, raga No Eh beh lì, Marti Cioè Dai Scusa eh È sotto È sotto Lui rimane dentro È sopra di me però Ma tu come ti sei rotta le gambe? Scusa Sono caduta Prendi la corda? No Non c'ho piastre, raga È qua da te eh Sì, ho capito, son morta Non ho piastre Ho finito la maschera Sì, ma l'ora è alle spalle Adesso ho messo per lì Ma cosa fai? Mi strumento Eh, c'ho la maschera, raga No Nooo Per un pelo No, raga Eh, questo è giocare Si sa conoscere la mappa Ma raga Ma se avessi avuto le piastre Era morto sto qua Lui era full piastre Dai Eh, ma perché ha ucciso Ci ha ucciso Grazie Si è ricaricato ben bene No, ma dico Mi ha sparato di merda Lui ha Ho visto la cinta Eh, ma no dico Aveva tutel'anta qua Eh, che sfiga comunque ragazzi Spin che muore Spin che muore Let's muore Io mi rompo le gambe Perdo le piastre Sai, una barzelletta Che partita comunque Cavolo Di giro Ritentiamo Perdo A me sto piacendo un botto raga Veramente Poi secondo me Poi secondo me Non stiamo incontrando Gente tanto forte Cioè i pro di Revert Non li ho visti Aspetta perché la mappa è nuova Eh, può essere Non so nemmeno il matchmaking Ora Come funziona Mamma mia raga Su facebook Su quel cavolo di gruppo Tutti a lamentarsi Della nuova mappa Ma perché? Non sanno fare altro No, c'è anche chi la difende Ma cambia gioco e non rompere il cazzo Boh Non capisco secondo me Hanno fatto veramente un Un lavoro ottimo Tra l'altro è uscita In poco tempo In poco tempo Esatto In poco tempo In poco tempo per noi In poco tempo per noi Magari ci lavoravano da un anno Se va bene Eh Esatto Però è stata una Una sorpresa Quindi cosa La gente che si lamenta Forse non si rende conto Di quanto lavoro c'è dietro Una manoppa del genere No No, non è quello La gente che ti lamenta è perché Non vuole cambiare Sta bene dove sta Cioè? Ha la sua zona di comfort Il re Bers La conosce fin troppo bene Come la stessa cosa Verdas Che Si trovano bene Eh ho capito Ma quando gli proponi qualcosa di nuovo Si lamentano Che sia bello che sia brutto E indipendentemente Se trarre conclusioni così affrettate Dopo un altro giorno di marzo Però a me in caldera Sinceramente non mi è mai piaciuta Da quando è uscita Verdas Che la trovavo molto più bella Probabilmente perché Era la prima La prima mappa e tutto Si Vabbè al di là di quelle Ma su caldera quante partite hai fatto? Pochissime su caldera Da quando è uscita Vabbè una cinquantina le avrei fatte Si ma pochissime Ecco Dopo cinquanta partite che fai su caldera Bene o male puoi fare Una specie di resoconto Se ti piace o non ti piace Se è meglio diverso A scopo o no Si certo Però devi fare Devi fare le partite No che è già il primo giorno Che esce la mappa Ma che merda che schifo Hanno rovinato il gioco No assolutamente no Cioè Secondo me non ha alcun senso Andiamo Qua A town Si boh Ti sta andando al mondo raga In amore Ciao Pinbiola pinbiola un po' più in là Mh ma La priorità è unice No No c'è un muro Mi lascio due piastre Le s... Te Grazie Grazie Oh ma delle armi Mannaia la puta Raga Ci sono altri Qua c'è il pin Dai spin Che? Ah c'è Volevo lasciarti una coraggio No Sono giusto Grazie Molto gentile A terra dal pin rosso C'è altra gente Arrivo tramite i pezzi Mh ma sembra di fare parkour Parkour Ho finito le moni Occhio in volo qua Vabbè io mi lancio nella folla Raga ha craccato sulla... In cima la chiesa Qua dentro Dietro dietro Marti Dietro dietro di noi Eh io non c'ho piastre raga Un attimo Ma che cazzo è? Ho lanciato io lo shop portatile No 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 qua 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 A terra? Si resta eh Dai È qua raga raga Dove è sto shop portatile? Si è restato sopra? Ok A terra di nuovo Fallo venire giù Dobbiamo fare il load Raga pira di gente qua da me E qua da me Sto scappando Spin Fa il load se riesci Eh trovarsi sto cacchio di shop portatile Eh qua sotto Qua sotto Oh Aspetta aspetta Mi sono incastrata Hanno busciato raga Ma io che cosa cazzo ho sparato? Questa è un'altra come... Raga chiesa in chiesa Trevapinetto della chiesa Ma questo? Una terra Vabbè una terra così Lanciando un bombardato così a muzzo Questa Niente non... Madonna ma oh ma... Cioè boh vabbè La chiesa è piena di gente Ho bisogno di nuovo perché no Occhio occhio Torre 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 Bene l'ho caricati tutti cacchio Che cazzo ci spono? Dalla torre nooo no 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 Vado a prendere l'oddy raga ロ e vai Mi hanno fottuto le armi, mi hanno fottuto le armi Porco due Ma c'è una cassa a piastre qua Aspetta, prendo anche io l'ho di Aprendo Dalla chiesa, raga, sempre dalla chiesa Eh, sì, non riesco a... Non lo vedo da qua Oh, il gas, il gas mi aiuto No, no, il gas, marda Madonna Da Alex, ce n'è uno, raga Qua dietro Qua dietro Ah, che cazzo, non ci vedo L'altro è qua, pinghioola Sotto, eh, però No, prova a fare il giro largo Vieni, vieni, vieni C'è altra gente dal pinghioola Io vado, mi butto Dall'elicottero c'è gente, eh Vedo le impronte, Saven, qui dentro Sono qui dentro Salgo Craccato No, 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 no Da dove? Non lo so, è arrivato in volo Da sotto Fanculo Va per strada Oddio Palle L'ho visto Ah, ma ci sono i boss No, 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 no No, no, li uccisi No, due craccati dal pinghioola Dal pinghioola, due craccati Sto guardando, sto guardando Si sparano Ah, c'è uno tra le tombe Due terre, due terre Uno da te, Marti Sopra di te, Marti Sopra la tua testa No, no, no Come si sale? Non so come si sale Deve scendere, allora Marti? È qua Minchia Ma raga è livello 48 questo Ma quanto ha giocato Tutto al pomeriggio L'hai fatto, Let's? Si No, va No, ma perché mi cambia l'oggi, cazzo? Dai, però Ma da dove? Ma da dove? Non li vedo Raga, io mi sto nascondendo Fras, ho venuto ad aiutarti Non ne ho visto uno Cioè, mi sparavano in quattro Anch'io ne ho visto uno sulla Ho visto Spider-Man E poi è stata morta Ma c'è Ti giuro Oh, cazzo, c'è gente Audio Non andiamo lì, raga, andiamo via Vi prego Eh, dove andiamo? Eh, ma vai Sono questo Almeno stiamo insieme, dai Audio No, vabbè Cioè, no, no Sono morta È assurdo Ma io non ci voglio credere Ma va a cagare, va a cagare Ma dove faceva saperlo il gioco? È un gioco rilassante Vai, fra Raga, non venite qua Cioè Resisti C'è gente brava, tra l'altro C'è un'insalata a te, beh Ragazzi, io non la vado appena Vado a mangiare Non ce la fai a farlo, questo? Raga, ho gente Ovviamente C'è gente qua? Sì, qua sui tetti Vuoi I due No, mi hanno Ma dai Ma vabbè, ma quanti siete? Craccati i due Vabbè Qua hanno loot Raga, qui hanno loot Sono il viola io Occhio perché qua sopra Qua Ma lasciatemi un po' Ma lo sciacallino Vieni, prendiamoci il posto di primo Sì Oh, mi hanno sparato C'era gente, c'era gente là No, no, no C'è gente, c'è gente, c'è gente qua dietro Eh, c'ho la taglia rossa Cosa faccio? Beh Sei restabile Quello che vuoi Raga No, pusha Vieni Contrarti qua, oh Non riesco a liberare Nenun di qua Ci ho provato No, vabbè Ma come fai? Come fai a uccidermi? Come fai? Sta facendo tutti Cioè Ma perché ho detto che eravamo in lobby facili? Il gioco È bastardo Si sente Si sente Registra E poi Ti smerda Esatto Hai giocato bene una partita Allora la prossima la giocherai malissimo Esatto Comunque devono risolvere Non so se avete notato che c'è un bug nel loadout Che l'è? È che generalmente Quando scegli il load La tua classe in prelobby Poi rimane memorizzata Quando sei in gioco Ah è vero Due volte che sbaglio il loadout Per questa cosa qua Comunque è piena di Nascondiglie Sia in alto che in basso Quesito 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 soprattutto per seven Il tè si beve al limone o alla pesca? Limone La pesca non esiste il tè Non esiste il limone Immagino che spin sia la pesca Visto che non commessa Assolutamente Cioè non esiste il tè alla pesca Esiste il tè al limone Va Spin Ho appena finito di fermare un po' di tè al limone Ah Vi ho sorpreso Ah Bravo Però un'insalatina di fianco ci sta sempre Ah è vero Raga secondo me hanno migliorato di brutto Quartina mi ha fatto uccidere L'audio Cioè io Ma a me Ma a me Sembra che venisse Ci sia un casino E non si sentono i passi No Io li sento molto meglio Ti giuro Molto più forti Raga è buggata 25 su 40 Ci sente anche il rumore degli uccellini Dalla chiesa Dai ma che palle però Qua col cecchino comunque Tanta roba Tanta roba Tanta roba Woohoo Grazie a tutti. Oh, sì. Raga, hanno messo le armi a Kimbo, non ci credo, raga, non ci credo. La nuova metraglietta le puoi mettere a Kimbo. Bene. No. Nuovo meta? È già arrivato un nemico, attenzione. Durerà poco. No. Che fare. Le nerperanno già domani. Sono delle belle spiaggette, comunque. Si, sembra di essere... Se poi ci fossero dei lingotti d'oro da raccogliere per fare è ancora meglio. Torniamo a Grotto? Iniziamo da qua! Ok. Dentro? Secchi? Secchi. Di tasca. Che è che sia rotto? Questa è una porta vera. Ok. Qualche nemico, perché... Come si è tasmoni? Bene. Abbiamo l'Oddy. Andiamo a farlo qua sulla sinistra? Mare. Sacca. Non andiamo da prendere. Sulla sinistra? Sì, dove? Prima. Era andata bene quella partita là. Ho trovato un guagno. Lascio i soldi al carrello. Prima. Stato qua hanno l'Ut. No. Compriamo un altro WB? Però lo WB, eh. Io lo tiro, eh. Se volete. Sì, tiralo e compratene un altro se è riuscito. Oh, cazzo. Davanti a noi? Dobbiamo salire. Salgo? Li vedo davanti proprio a te, che saltano sui tetti. Sì, è lì. Pado da dietro? Era qua, eh? Sì, sì, li vedo, li vedo. Non vedo l'altro, però. È qua sotto da me? Obelino. Come cazzo mi sono incastrata, raga? È one shot. Raga, raga, aiuto. Orca sotto, grazie. Occhio dalla macchinina, ne arrivano altri due. Sì, qua sotto. Minchia, c'è quattro. È un dato nemico? È sul tetto? Ah no, niente. Scusate. Terra? Ah, non chiamarti, che sto venendo. Salgo sul tetto. Sì, raga, uno è fondamentale che rimanga sul tetto a vedere, perché... Eccolo! E va a fan logo, obelino. Siamo di sopra, è entrato, sì. È dentro, ma si sta rappiostrando. Da dietro! Da dietro! Mi uomo. Hai fatto? Fra? Eh, sì. Fatto, fatto. Ma sui fili si può camminare? No. Pensavo. Elicottero? Qui? Qui? Qui in verde? Eh, sta andando, sta andando. No, 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 no. Eh, in verde. Altri, fra... Altri. Aspetta, provo a coprirci. Sta arrivando un altro, aspetta che te lo pingo. Eh, qua? Eh. No, raga. Ho il... Per il disturbatore. C'è il gas anche. No, 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 dai! Dov'è l'oddy? Dov'è l'oddy? Eh, va fa' il culo, vai. L'oddy è pieno di gente. Non ci voglio, credo. Una qua, quelli pingo, qua. Che è il moschieratore, annullare! Ho un contatto! E muori, ma porcaccia la miseria. Atterra quello dietro la roccia, poison. Va dietro. C'è un altro, mi ha avvistato, raga. Una mano! Atterra, 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 atterra! Lo sta rivestando? Eh, lo sapevo, terra è un cazzo. Ci sono altri due. Marci, è da dietro! Cioè, non è colpa mia! Eh, ma vieni con me! Perché stai in fondo? No, baffanculo, spero che muori nel gas. Sono tutti e due nel gas. Fin tre. No, ho di nuovo sbagliato il gas, raga. Ma porca, troia. Ma lo fai apposta, allora. No, perché vado in auto malattico. La data è prendibile, secondo voi? Io l'ho preso. Non lo so. Sì, sì, l'ho preso. Io ci provo. Eh, è a calla. Dicevamo, Marti? C'è il team di prima. Tutti e tre. Craccato i due. Tu vieni a casa con me. Tu, porca miseria, craccato questo. Sta arrivando Marti da dietro di loro. Vai con il cibo da panino. Non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo. Ah, un era da me. Ho sparato a te, Craccato, molto bene. Eh, io ho sparato a te. Niente, io non riesco a prendere lo d'out. Sono inutile. Ma no, dovresti riuscire a prendere, si stanno sparando ora. Sì, riprovo. Eh, muori, muori, muori. Facciamoci un sciacallo. Ok, sono safe, c'è qualcosa. Fanno lutte da me? Ma da... Ma che cazzo ci facevi qui con le casse che suonavano? Oddio, 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 oddio. Che va bene. Che va bene. Devo gente sopra la tasca. C'è uno, è sotto di me? Eh, quanto è vero. Due. Raga? Eh, ce ne sono due. Raga, ho bisogno di una mano. Sta arrivando, vale, sta arrivando. Uno a terra da... È morto? Lo sto bombardando? Occhio dietro, ce l'avete dietro dal viola. Raga, dovresti vederlo. Eccolo qua. Non lo avevo. L'ho visto? Spingato. A terra? Arrivo. Porto. Brava. Ce ne sono due da spin, se non li ho uccisi. C'è pieno, c'è pieno. Eh, infatti, perca. Qua, spin, spin, sono craccato. Eh, la siamo mai stanno dovuto scendere. Che male. Eh, raga, non so cosa fare per voi. Dai. Da dove, fra? Eh, ovunque. Oh, merda. Eh, ci concentriamo su troppi team alla volta. Non riesco a scendere. Niente. C'è uno qua dietro tra cazzo. Raga, siamo troppo distanziati, ha ragione, Marte. Sì, non è come reperto qua, che è diverso. Mi stanno pushando? C'è gente qua, ragazzi? Quindi occhio, spin? Siete da soli, siete da soli. Io torno. C'è gente sopra, spin, c'è gente sopra. Sì, 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 lo so, ma infatti non mi muovo. Meno male che sono pochi i 45 giocatori. Sonna, meno male, che cazzo mi ha avuto nemmeno. Che palle. Sa serpentina di merda. Caccato, Fra. Ma questo è sceso così da nulla. Sì, mi sono girata subito, te ne ho urlato, ma non ne ho fatto. Sì, mi sono girata subito. Stai qua, chiude qui. Eh vabbè, mi fumano la sigaretta. Sta partita solo da anni ho fatto. Restate in cinque. Secondo me hanno il sensore. Ti sta cercando lì davanti. Grazie, va. Oddio. Oddio. Trovalo, non smirare. Cazzo. Vai, non c'è spuglio. No, no. Piastati. Le piastre, le piastre. Stai fermo e piattati. Piastati. Non ci ha capito un cazzo. Come lì. No, sta qua. Lo sta restando. Ah, sì. No, no. No. Che plug. Avrei detto quello. Ma dove cazzo va questo? E' la fratta. Abbiamo trovato il nuovo spottino di fortune skip. E le raga. Spottino 7. Mamma mia. Penso se te l'avessero fatta te avresti spaccato tutto. No, io quittavo, basta. Spegnevo il cellulare, installavo il gioco. Fa un culo. Che ridere. Che ridere. Bello. Beh, veramente. Ora uso il Nikita Andiamo Mamma mia Uno ha scritto la brutta copia di Assassin's Creed Quindi Nikita secondo me può dare delle gioiette Piccole gioie Però io sto continuando ad utilizzare l'MZ È ancora forte Sì sì, l'ho usato finora Anche l'H4 Pastelli nazi, avronterete dei veri nemici Dai, dove andiamo? Andiamo in un posto diverso Tipo grotto No Qua 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 Non c'eravamo prima Perché non sai come dirlo Quindi dici qua C'è gente col Vard Oddio Prendono Lely Ecco, mi ha fatto Lely Atara su Lely Sare stato qualcuno Li bombardo Lely Oh 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 cacchio Crappato Oh? Craccato Oh Dio S-eh, les, scendi Sotto di te c'è una morte uno craccato vai su un contenitore scendita non capito un capo c'è una pistola ciò vada dietro facendo velino a farra a figurati secondo me sono venire da me faccia di m non è craccato dove cazzo finito dov'è Pagano brazo. C'è altra gente. So lì non ma non mi ha dato il resto Sopra E' sopra Niente non ci arriva. Io lo so Ma ci sono 50. No sono caduto Ma va Sto morendo Eh ciao nasconditi. Come si entra in questa cucina? Stai in un angolino Non si entra Ma come si entra lì? Vale va Prima vale Non si può C'è mica ho capito C'è una cucina con delle basse Me ne vado me ne vado raga no Prepara due spaghetti aglio olio Audio audio E' entrato Audio C'è un pezzo di grappolo Sei morta che fa audio Prima è facile ve l'ho chiesto Ma mi vado qua a prendere il sole C'è anche una baguetta C'è un civitero No sotto C'è una sdraia con la sua mano Ciao dimmi tu Oddio Raga ci stiamo splittando di nuovo Ora mi incazzo Ha ragione Venite da me No c'è l'unica calda C'è anche il mezzo Rossa Mi ha sciolto questo raga Mi ha sciolto Questo mi sa che citta Perché No città no Una terra Ne due altre vale Da dietro no Ci voglio credere Vabbè Madonna ragazzi Che terminate Questi qua secondo me Uno di loro Questo qua cittava Con l'MG Elmow Minchia Mi ha allocato In una maniera stranissima Questa con l'MG Che non è l'MG Ma è quello nuovo Non è stata che io faccio l'ultimo Vabbè sì Quello nuovo Ostile in vista Questa con l'MG Questa con l'MG Questa con l'MG Facciamo l'ultima. Beh, la partita di prima sono morta otto volte, ho fatto due chili. Ottimo. Ma Marti, ma poi giochi ancora o no? Stacchi? E tu giochi ancora o stacchi? Io no, io vorrei giocare. Ah, sì, sì, va bene. Devo conoscere questa mappa, se no è impazzista. Mi sembrava che non ne avessi più voglia. Ah no. Non male, eh, Nikita? Eh, immagino. Più che altro, ci mette pochissimo a ricaricare. Aspetta. Ci mette pochissimo a ricaricare, non so se ci ho messo io qualche perk, mi ricordo. Fine dell'allenarezza. Vediamo cosa avete imparato. Ma potremmo tornare... potremmo andare qua? Il miner in... O il castello. Non ci siamo ancora stati dentro. Sì, io scenderei... Tipo qua. Eh, io cos'ho detto? Un po' più in là. Ma perché giù? Quando possiamo stare su? Che mi piace stare nelle fogne. Sei un ratto, sai. La priorità è uccidere tutti ieri. Ma brutto ladro. Sperizzata malefica. Raga, non ho trovato un cazzo in sto piglio. Ma solo a me sembra di essere più veloce. A me sembra... Raga, cos'ha? Cosa sta succedendo? Non lo so. Oh, è qui da me. È il mercato nero. Proviamo? Vai, vai. Dai, dai. Da lì. C'è gente da me. Arrivo. Crackato. Due. Porco due. Stavo lutando. Raga, tutti insieme. Non vi sfruttate. Crackato. Sta pushando. A tara uno. A tara uno. Let's, vai con loro. Vai con loro. Eh, la vai con loro. Vai con loro. Non è in due. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Ma dai, ma che cosa vuol dire? Ma non lo so che è strano. Eh, vabbè, va. Ma perché io non prendo mai una cazzo di kill? No, io sono volata in faccia. Ma chi l'ha visto sto qua? Ma boh, non c'è questa, raga. Allora, guardare. Ho lanciato l'Uav? Sono dentro al castello. Io dentro, dentro. Hanno fatto il loadout. Ho lanciato il loadout. Non importa. Mi sta prendendo. Vado a prenderla. Fa caldo. c'è come la vera sì vabbè come salgo a te le scale forse ci sono io aspetta le sto cercando di capire come spi sono no no lascia stare stai ancora mirando stai ancora mirando mi faccio soltare tanto sono mezzo morto eri proprio sul tetto sono ci sono io sul tetto lasso salve sei safe no per niente secondo te ci sono i try harder italiani qua che abbiamo l'odd eccolo no ma sciogli raga io cambierei questi sciolgono non riesco a lanciarli abbiamo l'odd va bene modo da loro sto salendo sul tetto dove è lo shop davanti a te usciano pure da me mi sembrava uno di voi l'odd eccolo stai seguendo chiedervi voi bravo bravo era era lui l'antirino dobbiata qua questo è il try harder raga qua un team intero laggiù che guarda nel faro l'antirino no raga no raga è qua l'ultimo lo sto lo sto.. è craccato dov'è? qua dentro non ho capito non voglio roba è sta.. è qua download out operatore ostile è qua è qua è qua è qua è qua eh aspetta potrebbe pushare no 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 tu resta ci penso io ecco sei presa con me no no 7 mi sta andando addosso vabbè è dalle scalette raga ve l'ho pingato adesso ne è andato il ping sono rientrati gli altri eh sono rientrati gli altri eh qua una terra? uno qua uno qua uno qua dove finire sto merda è trattato dietro dietro vale oh merda ci sono ci sono arrivi no 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 chi ti ha fatto? da fuori raga qua esterno close arrivano di co arrivano in volo occhio craccato 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 vale 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 dimmi 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 sono in due poison occhio sono superstite prestami che diamo gli diamo una mano a poison che da sole uno l'ho fatto no 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 di resistenza ho bisogno di piastra però tieni però eh che palle ma da dove? eh eh arrivano riposizionamento guardi così finito è nella cupola è quattro è quattro è quattro porca croia craccato craccato tutto il team lasciate andare no guarda che belli che sono qua ah che belli sta sparando un altro team mi godo la scena adesso dai che torni prima prima questo se ciò fa c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente raga ma sono sempre loro sono sempre loro è veramente vero cazzo eh ma questi sono bravi raga per la scena devo provare a rinchesare qua io sono sempre fai lo loot io vado al loadout se loro sono lì io vado al loadout c'è gente c'è gente loadout ma quelli che ci hanno ucciso sono andati oltre sono qua quella è la destinazione C'è uno qua? Figur Audio? Audio spin? Eh fan custia Ah, tra un po' lo faccio Oh, sempre Marte Bianca, eh La redizione Appugni tra un po' lo faccio Dai, oh Ma che cazzo Dai, mi ha rotto le palle, basta Oh, sono da dietro Sono loro, eh Sono morte bianca e ciccioballiccio Sì, sì Guarda qua Sì Sei andato destro Destro seven Cacchio ti sei accatato davanti Vengo da qui Che colore sei? Arancione Oh, tuo alleato è appena rientrato Non c'è da un po' mi spiace Contratto fallito, si è rinconca tutto E tu? Raga, abbiamo l'oddia Eh sì, non vi vedo Non so dove siete Non so dove siete però Perché c'è il disturbatore Qui c'è gente Mi avvicino a voi Andiamo verso Marte Andiamo verso Parma Il viola Non so dove sia, raga Quello viola O come sarà stato Andiamo verso il viola Insieme, dai Insieme, dai Insieme, davanti a noi Vetri, vetri davanti a noi Eh, lo so, lo so Andiamo alla Marte Andiamo alla Marte Andiamo alla Marte Mi sparano Non ho fatto uno Dal verde Dal verde Non ho fatto uno Eh, lo so, lo so, lo so, lo so E non ci siamo morti E ce ne sono altri due Qua O te lo devo finire? Uno qua All'altro a destra Nel mio finger azzurro C'è chi? 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 Raga, vengo da voi Ah, fai tu C'è uno in volo? Qui, raga, sono qui Pin viola Ah, ho fissato Hanno fatto un lodi Raga, hanno fatto un lodi Passato, passato, passato Passato, passato Una perra, l'ho ucciso Ok, graffalo Perché siete scesi tutti? Perché c'è gente C'è uno Raga, c'è uno Un altro, un altro, un altro Let's Let's, let's Mi sto piassata Quello di prima Non lo so Sotto di voi Sotto? Mi carico Merda Eh, Alex, dietro di te Proprio in linea d'aria Uno è sotto di voi E i meandri sotto di voi Niente, mi vedono a tutte le direzioni Oh, basta È basta Riuscite a dare un russo veloce Poison, nel caso lì sotto Eh no, c'è gente, c'è gente lì sotto Mappena è sceso un Sto guardando la corda Perché ho paura che salga da qua Raga, gas Oh, grazie Oh, grazie Eh, mi sa che muoio però io Oh Sì, sono morto infatti No Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè No, 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 no Dove stai Alex? Sono morto Madonna, quanti qua sotto c'è un furtino sono morti c'è anche soldi per un rassi ma non c'è più lo sciopo è morta che schifo ma guarda dove era sto rotto in chia fra devi andare da loro dov'era la tenda lingua la tena davanti a te fra la vedi quella tenda va bene ci vediamo mercoledì prossimo solito ora sono veramente contenta della della mappa nuova spero che sia piaciuta anche a voi grazie